Benvenuti alla puntata numero 22 per Dying Light 2. Dobbiamo raggiungere lo one che aveva deciso di recuperare delle scarpe che erano sue e della roba che era sua a tutti i costi dopo la missione precedente. No perché mi hai spinto la torcia. C'è una trappola. Vado tanto. Non è fifù, è una trappola di qualche cosa, c'è qualcosa che non quadra perché è un po' strana questa cosa. Inizio. Inizio. Non toccare nulla. Solo prende i suoi giudici. Che c'è in qui che ti ha fatto così spooko? Cool. Wonder se funziona. Il nostro mixtape Questo è... Non è come quello che conosco Non posso, posso spostare... Vestita sempre uguale con le stesse cose da anni Questa cosa non è normale Livello 6 A noi a livello 7 non ci fanno prendere niente Visto che siamo a livello 7 Di equipaggiamento nuovo non esiste a livello 7 Però i nemici si possono incontrare a livello 7 Per qualche motivo Per qualche motivo loro si possono incontrare Le scarpe qui non ci sono Oh, un arco serio Con delle frecce serie E questo va molto meglio Questa è che ci spavano molto tempo Sono qui. Questo è un po' di vista. Adesso ci murano vivi Sì cerchiamo nel frigo Come Fedez ha messo le scarpe in frigo Evo Nella camera da letto C'è qualcosa che non sto vedendo? Sì però mi fai esaminare Ho promuuto 20 volte prima Sono scarpe col tacco Non c'è un peggio Cioè ma scusate Però io quando dicono che Cioè ma tu puoi prendere una frase Che comunque è stata Non so se è stata citata da altri film Prima ancora di Interstellar Ma è una frase così importante di Interstellar Non la mettere Non è che Digitire è il film che non ha visto nessuno Cioè un po' di fantasia Cioè questa cosa Vedi in strada e fai E' come quando in Arrival C'è l'intro che è fatto con la musica Che è presente già ma non è che è composta apposta Ma è presente già in Shutter Island Uno la riconosce Ma non possono avere la stessa musica Trappolone È trappola Tutto bello no? Metti un'altra citazione che non è nota Cioè non puoi dire Non ho visto Interstellar Non so che è messa lì E' su Poi darà proprio l'idea della scarsa qualità Perché evidentemente più che cercare un'altra frase Hanno deciso proprio di andare sul sicuro E di prendere quella I suoi sensi di ragno Ribecchiamo Econ A me non mi frega niente Le faccio fuori tutti Non è che C'ho problemi E dormi Senza espressività Senza facce Senza niente Senza nulla di nulla Non è che C'è 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 Sì, sembrava. Perché qualcuno leggere la storia, non significa che non devono morire. Hai raggiunto perché ha abbandonato Frank? O che ha abbandonato Frank perché hai abbandonato? Non c'è nulla di analizzare questo ora, Aiden. Quali che succedeva, era un errore, ok? Non dovrei aver mai stato così naïve. È per cui non voglio che tu stessi spettando. For fuck's sake, tu potrebbe solo rispettato questo. No, non è vero. Un po' scritto male. Le tematiche e la trama c'è anche. Si vede che hanno detto, vabbè, fanno una trama, mettiamoci delle cose. Però poi non le sappiamo scrivere, proprio. Luan, cosa sta succedendo? Tu non ti dimenticare, tu? Tu devi sapere questo ora. Mi dimenticare che la missione era un po' dura i dieci minuti. Dicendo come ti senti, non ti dimenticare. Ok. Stai a guardare se hai bisogno. Ma non mi interruttare. Sono occupata. Ti fai dronco? No, tu d***. Guardando le stelle. Hey, posso vedere il Big Dipper. Non mi interruttare, non mi interruttare. Non è vero, non è vero Non è vero Non è vero, non c'è nulla Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Il doppiaggio è anche giusto ma non è stato fatto bene il viso Non è per nulla di qualità Figurati, figurati, l'abbiamo lasciato morire in teoria E non solo, ci ha anche sostanzialmente venduti a Waltz, quindi... Veritava già di morire Si, però non stai bene Sei matto Oh, fuori, fuori Non è vero Frank, ma non ho più tempo per te La missione termina qui Anche questo episodio La missione è durata molto poco, però comunque è un blocco unico perché altrimenti poi se andiamo più avanti magari dura troppo di più e la devo spezzare Il solito discorso Dal punto di vista dell'espressività non ci siamo perché non riescono a comunicare niente di quello che vogliono dire e tutte le cose sono fatte a blocchi Perché se fossero state narrate meglio, di volta in volta, con più profondità, uno avrebbe empatizzato invece sei sballottolato a destra e sinistra con delle risposte che non solo, come hanno scritto in molti nelle recensioni, non cambiano niente Cioè quello che viene scritto nelle risposte non cambia, non altera davvero la trama, a parte alcune scelte che effettivamente modificano alcune cose ma poi di fatto non la cambiano Ma sono anche controproducenti perché danno la possibilità di farti fare delle cose, di farti dire delle cose quando tu ne vorresti dire, a parte molte di più Con molta più profondità e non capisci nemmeno dove vai a parare quando dici una cosa Cioè non mi puoi dare delle decisioni che io non so cosa comportano, in più queste decisioni la maggior parte delle volte non servono a niente Oppure sono risposte che girano tutte attorno a domande che durano una risposta, una botta risposta e poi dopo, subito dopo, nuovamente, quella unica cosa che devo dire Quindi continuo ad avere i soliti problemi cui non riesci proprio a vedere una brillante scrittura Perché poi la trama in sé ci sarebbe anche, bastava veramente, come dico anche da tante puntate, bastava veramente prendere la trama del gioco Togliere le secondarie o togliere praticamente quasi tutte le secondarie e scrivere qualcosa legato a tutto quanto Cioè quindi più profondità in Carla e Sophie, più profondità in Loan, più profondità in Frank, più profondità nelle loro missioni Più razionalizzazione dei tempi, investi tutto in quello e basta E invece tu vuoi fare un gioco in cui non si fa niente per il 90% del tempo E nel 10% del tempo in cui fai delle cose che hanno un senso e un significato Sono fatte male perché comunque ti devi sbrigare, devi metterci la missione Non riesci a dargli enfasi perché i volti non funzionano E' tutto totalmente sbagliato rispetto a quello che si poteva fare Comunque fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao Ciao Ciao